Mi chiamo Davide Milano, sono un assistente sociale del CIS38, che sarebbe un consorzio intercomunale dei servizi sociali dell'Alto Canavese e rappresenta un territorio di 36 comuni da gennaio 1941. Il servizio sociale si occupa di tutte le problematiche riguardanti minori, adulti, anziani e disabili e abbiamo aderito al progetto del corso antidiscriminazione perché incontriamo costantemente queste problematiche sul nostro territorio. Il punto informativo sarà a Quornier e forse un secondo punto informativo a Rivarolo.